ha preso fuoco tutto, spegnete il fuoco, spegnete il fuoco, spegnete il fuoco, ha preso fuoco la mappa lui è morto sarò piccolo per questione sei piccolo, allora la mappa si chiama campo militare, oh, davvero, campo militare, su ti è sparito, ah ecco eh, cambiato la schilina eh, l'ho notato, l'ho notato, allora, come si lega questi cartelli, le regole prima, leggiamo le regole, cavati Matteo, non rompere blocchi, gioca in normale, sta fermo, ah, devo giocare dentro il normale, devo giocare dentro un normale, oddio, brutta questa, distanza rendering corta oddio, non lo so fare, quindi adesso avremo quella che c'è ciao, benvenuti in questa custom map, il campo militare, è questa la mappa di Suzzi, una parkour map buon divertimento, a parte c'è scritto che era un adventure, però è avvertenze, oh, aspetta, c'è un'avvertenza, cerca di non morire questa è un'avvertenza basata su cosa, aspetta, questo è bellissimo, vai Pietro 99, copyright riservato, è la mappa protetta da copyright, qui ci sono due minecart, si è sciupato, prendi il carrello, ora sarà un viaggio meraviglioso, hai figi pigi pigi Mastardo, venite basta, no sangue bastardo vado a piedi allora prendi crede votanti o prenderà botte ma dai e dove il parkour qua ci sono le frecce qui dentro è stata un'avventura c'è altre frecce finite aia aia che bastardo ha fatto una mappa per colpa le frecce ecco cavate così siamo più al sicuro adesso le cavo perché veramente è impossibile ma fermo perché 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 aspetta un attimo perché c'è sta furia no guarda il deficiente ha messo la lava gli ha preso fuoco tutto io però impegnete il fuoco impegnete il fuoco impegnete il fuoco ha preso fuoco la mappa lui è morto lui è rispetto al parkour in che senso deliquate guarda rispetto al parkour e mi scusi signor parkour mi dispiace di essere venuto qui a disturbarla però volevo fare la mappa no ma esattamente no imbecille lui pensa sali da qui salti qui e vai la ma puoi andarci da qui vai vai livello 4 soldato via perché c'è una pozione di velocità e la vedi i cartelli della fine opa opa aspetta opa congratulazioni sei un militare se questa mappa ti è piaciuta consiglia ai tuoi amici o matteo fai questa mappa fai questa mappa a valiglio se non ti è piaciuta me ne frega un cazzo è volga no glielo caviamo questa è volgare lo caviamo se proprio devi sbuttarmi la ma sputtanarmi la mappa non scrivere lol mi sta sul cazzo anche te mi stai sul cazzo ciao nel pacchetto c'è anche a notte brick in the wall è vero è vero dentro il pacchetto ho scaricato la mappa c'era la canzone c'era la canzone c'era la canzone a notte brick in the wall dei pink floyd un regalo da parte mia o uno volendo quanto italiana ma ma l'ha fatta anche in un mondo super piano ha fatto d'un tunnel l'anno tutto fordette ha scritto un cartello per lui fa vedere il cartello per lui questo è il cartello per noi l'ho fatta da solo con la lava stronzo l'hai fatta solo da solo con la lava stronzo stronzo scritto scrivere in grande stronzo vabbè no perché se ne proprio devi allora io gli rispondo come si fa per parlare con ero prime io gli rispondo anzi gli rispondo alla sua maniera ecco ecco e direi che c'è anche un messaggio subliminale tra l'altro no poi perchè mi ha dato una pozione di velocità perchè me l'ha data perchè credeva che questo salto fossero impossibili senza ma cosa per tutti si per tutti si per tutti sono impossibili i risalti è vero ma dato che tu spawni fuori puoi andare fin qui no no allora torna indietro perchè se te non l'hai notato non è che si spawni fuori c'è un buco che porta fuori c'è una porta d'ingresso addirittura come no ma te secondo te dove sei entrato te sei spawni fuori come hai fatto ad entrare è da qui eh secondo te guarda che non l'ho mica fatta io eh è tutto io eh ma potrebbe essere eh già così uno se vuole può uscire e andare laggiù si come c'è un villaggio l'ho fatto io a casa eh l'ho fatto io l'ho tagliato dove è il villaggio anche laggiù si ah in lontananza non lo vedo vai avanti vai nuvi vedi la aumenta la rendering che non lo vedi dai ah proprio cioè nei mondi super piatti ne spawni uno ogni 30 secondi eh lo andiamo a vedere magari c'è c'è qualcosa nel nel posto super piatto lo andiamo a vedere qua nel magari un easter egg un easter egg esplorate 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 controllate tutte le casette magari c'è qualcosa non credo proprio ma vabbè ma controlla controllate controllate in tutte le case controllate magari anche quelle dove siamo già stati un altro magari magari uno nota qualcosa che non ha notato altro nel castello nel castello nel castello ma che castello è una chiesa guarda il castello è una chiesa ah e questa sarebbe una chiesa quella è una chiesa testa ah no lo sapete questa qua c'è eh c'è ho trovato pane la roba ho trovato l'ingotti d'oro l'ingotti d'oro mangio io controllate bene controllate bene questo qui è talmente scemo che ha messo qualcosa sicuro che mi ne frega l'ha scritto proprio me ne frega un cazzo se non ti piace fatti cazzo franculo 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 comunque l'avete notato il messaggio subliminale suppongo quale? i colori di franculo vaffanculo l'ho scritto io si lo so ma il messaggio subliminale l'hai pensato a te io non l'avevo pensato eh vabbè franculo è quello di notte da leoni franculo si tarocco però tarocco eh c'è tarocco Matteo c'è qualcosa qui cosa? vieni qui vieni vieni ho trovato il cartello bellissimo entra dentro ho trovato il cartello qua dentro eh? e quindi? bastardo scrivi eh? bastardo scrivi eh? si è proprio un bel cartello bello me lo riprendo è proprio un bellissimo cartello vero? bello lo sono anche ripreso va bene la mappa è stata più corta di quanto pensassi ti do una patata a te non lo so io sono amante delle patate io ho patate distruggiamo sto villaggio facciamo i vandali vabbè la mappa è finita ciao